Non si ferma l'attenzione verso la strada Villanova di Marsciano e le sue condizioni. A fine settembre la situazione critica della strada, che causa da anni problemi alla comunità di Villanova e dei dintorni, è stata segnalata ai comuni di Marsciano e Perugia grazie all'interessamento del Comitato Pievaiola. I comuni, spiega il portavoce del Comitato Augusto Peltristo, hanno immediatamente risposto alla nostra sollecitazione. Prima di tutto metteranno in sicurezza la strada. A dire il vero, solo Perugia ha iniziato i lavori, mentre Marsciano ancora è rimasto al palo. Al di là degli interventi in capo agli enti locali, Peltristo solleva nuovi interrogativi riguardo al finanziamento destinato alla riqualificazione del tratto stradale. In una missiva inviata ad ANAS e all'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche, il Comitato Pievaiola esprime preoccupazione sullo stato attuale del finanziamento e sulle tempistiche di intervento. Nel 2020, infatti, ANAS annunciò uno stanziamento di oltre 700 mila euro per la riqualificazione della strada. Il Comitato e i residenti ora chiedono chiarezza sull'iter del finanziamento e sui piani di intervento. Vogliamo ricordare, conclude Peltristo, che tale tratto di strada rappresenta un vero pericolo per l'incolumità delle persone e richiede immediato intervento da parte di tutte le autorità competenti. La sicurezza stradale non ammette ritardi.